Ciao BALQUIZ FRIENDS e tutti i fan di football, benvenuti al mio canale! In questo video stiamo chiedendo la voce per il paese. Abbiamo 20 domande in questo video, per ogni domanda hai 10 punti. Sei il vincitore se hai 200 punti. Non dimenticate di cliccare il like, subito e di dare la motivazione. Andiamo! Round 1, siete pronti per la prova? Andiamo! Sì, questa partita è molto importante per noi perché adesso abbiamo solo due appunti. Esatto, è un giocatore egyptiano. Chino ha risposto questa domanda. E la risposta a questa domanda è... Well done! La risposta è Mo Salah. Hai 10 punti. Andiamo a rispondere la round 2. Sì, questa partita è molto importante per noi perché adesso abbiamo solo due appunti. ROND 2 This question is easy. Don't forget to watch video until end. We have hard quizzes. Guess Salah age? A. 31 years. B. 33 years. C. 36 years. And the answer of this question is perfect. A. He is 31 years. ROND 3 Ok, he is from Brazil. And he is so funny player in the world. And the answer of this question is Neymar Jr. You get 10 points. And let's answer round 4 about Neymar. Guess Neymar position. A. Forward. B. Defender. C. Midfeller. Perfect. The answer is A. Forward. And let's answer round 5. Guess the voice. About Mbappé. So we have eight points to show you key sport. Are too many points that'll play in a 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 aTim a a a a a a a a a� a 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 t-f a a a a b a a a a a a a a by a a a a a rou a pi a a 10 a a a a a, b a a a a a a a a. It is ooh a 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 a, b a a a a aitta, a b a a a a a a a a l a a a 5 a a a a a a. a a a a a a 10 aula. 60 years old Il modo di vedere il football è completamente diverso. Quindi quando sei un giocatore, questo permette di aggiungere le corde a l'arco. Siamo rispondendo la round 6, sui Mbappé. Che vince Mbappé vince? A2, B1, C3. Quale è la risposta? Penso che questa è una domanda semplice. Siamo arrivati. La round 7, rispondendo la voce. Non poter essere campeone, non è stato impressionante. Non poter essere campeone, non è stato impressionante. Oh mio Dio, credo che conosci questo giocatore, è argentino. Bene, la risposta è di Lionel Messi. Non poter essere campeone, non è stato impressionante. Ma lui è stato giocatore, non è stato impressionante. La round 8, rispondendo la questione di Messi. A36, B38, C40. Can I answer? So easy. And the answer to this question is... A. He is 36 years old. Round 9. The answer to this question is... Non poter essere a raggiung. No poter essere a raggiung. On poter essere a raggiung. Il suo parco, la determinazione, la ragione di vincere per essere il migliore. Il suo parco, la determinazione, la ragione di vincere per essere il migliore. Il suo parco, la determinazione, la ragione di vincere per essere il migliore. Il suo parco, la ragione di vincere per essere il migliore. Il suo parco, la ragione di vincere per essere il migliore. Il suo parco, la ragione di vincere per essere il migliore. Il suo parco, la ragione di vincere per essere il migliore. Il suo parco, la ragione di vincere per essere il migliore. Il suo parco, la ragione di vincere per essere il migliore. Il suo parco, la ragione di vincere per essere il migliore. Il suo parco, la ragione di vincere per essere il migliore. Il suo parco, la ragione di vincere per essere il migliore. Il suo parco, la ragione di vincere per essere il migliore. Il suo parco, la ragione di vincere per essere il migliore. è da polandia, puoi rispondere a questa domanda, è semplice, benvenuto, Lewandowski, ti ricevi 10 punti l'ho metto per la prima volta per il pitcher e i giocato contro l'hanno, quindi mi ricordo l'ho ricordo l'ultima domanda, non dimenticare, non dimenticare, io vi pinto la correcta domanda in the comments, round 20, guess Lewandowski club, B for Barcelona, A Dortmund, B Bayern Munich, C Inter, thanks so much for watching guys this video, don't forget to press like, subscribe and all these red buttons, you give me motivation, we have quizzes everyday in ballquiz channel, goodbye.